Fresi che uno dei ragazzi e dei giovani piotere, ecco direi di far partire il servizio su Marco Iuviano, una carrellata di azioni a Bologna e in Nazionale. Fermo il campionato di Serie B, Marco Tardelli ne ha approfittato per esporre sabato scorso a Venezia i gioiellini della sua Under 21 di categoria. Tre gol di ottima fattura, ingamichevole contro una Croazia dura e spigolosa che ha saputo in qualche modo tenere testa agli azzurrini solo nel primo tempo. La squadra di Tardelli aumenta il ritmo, diventa in breve padrona del campo, tentò ogni tanto per non perdere l'abitudine e cerca il gol personale. Tomic dice di no, ma fa felice la Macchi che insacca con una gran bocca. Poi Veronese propizia dalla mandierina del calcio d'angolo il 3 a 0 di Iuliano. Tirano prima Turchi il mazzo e poi Iuliano. L'Orieri è puntuale all'appuntamento. L'avversario cerca Tassotti, posizione regolare per lui. Il cross è buono, Iuliano con molta freddezza. Si arrabbia un po' anche il pubblico. Tassotti, buono lo scambio con Massaro. Chiude bene Iuliano. Un altro dei nuovi, Iuliano, ex Salernitana, ben impressionato in queste prime uscite stagionali. Attila, anche lui, centrocampo, attacco. Catanese. Supera in qualche modo Costa Curta anche perché lo aiuta Iuliano. Pronto al cross, pericolo! Evani rischia e poi calcio di rigore.